Se ti è rimasta un po' di quella febbre del sabato sera, segui la festa. Noi, i ragazzi degli anni 70 e 80, ti aspettiamo al Desigual nella Sala 2, ogni sabato. Noi ci saremo, e tu? Buonasera a tutti, mi avete riconosciuto, sono Spagna e mi sto chiedendo, e vi starete chiedendo cosa succede da sabato tutti i sabato al Desigual? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Succede che ci tuffiamo nella meravigliosa atmosfera degli anni 70 e 80, quella che mi hanno resa famosa, scherzi a parte, Giorgio Conti in Arte Atrium, Gianni Tumbariello in Arte Ryan, l'amico Tita Vigani, titolare del Desigual, la nostra Lori a detta alle pubbliche relazioni, tutto lo star della nostra televisione, tutto lo star del Desigual a inaugurare da sabato le nostre serate anni 70-80, rigorosamente in Sala 2, quindi Sala 70-80, e 70 mi dà tanto ragazzi miei, ci mettiamo 90. Ava un gustaglio, pazza! Ava un gustaglio, pazza! Grazie a tutti! Grazie a tutti